abbiamo visto come la risposta dei cristiani alle aggressioni dei turchi a Gerusalemme sia stata l'organizzazione delle crociate la prima quella di Goffredo di Buglione ebbe potremmo dire successo Gerusalemme fu liberata e i cavalieri crociati divisero le terre conquistate organizzandole in quattro regni i regni latini nel giro di un secolo però Gerusalemme tornerà nuovamente in mano ai turchi e quindi in Europa si organizzeranno altre sette spedizioni ma perché tutte queste spedizioni perché Gerusalemme era così importante dal punto di vista dei cristiani sicuramente il primo motivo era che a Gerusalemme c'era il santo sepolcro cioè il luogo dove secondo la tradizione Gesù fu sepolto e poi dopo tre giorni risuscitò ma non solo Gerusalemme è sempre stata ed è tuttora considerata la città santa oltre al santo sepolcro c'è ad esempio la moschea della roccia da dove Maometto ascese al cielo in un suo viaggio notturno come viene raccontato nel corano e lo stesso luogo dove sorge questa moschea secondo la tradizione invece della religione ebraica è il luogo in cui Abramo avrebbe dovuto sacrificare suo figlio Isacco quindi Gerusalemme è la città santa delle tre grandi religioni monoteiste. Fatto sta comunque che dopo la riconquista della città da parte del Saladino i cristiani non riuscirono più a riprenderla. Quindi ecco il motivo per cui vengono fatti altri otto tentativi. Di tutte le crociate è importante ricordarne qualcuna per motivi che differiscono tantissimo una dall'altra. Una ad esempio è la quinta quella che è iniziata nel 1217 perché insieme ai crociati partì anche Francesco d'Assisi. Ovviamente non andò a combattere andrò a parlare infatti venne ricevuto dal figlio del sultano. Francesco voleva confrontarsi con i musulmani sicuramente voleva anche convertirli ma non con le armi. Un'altra crociata da ricordare perché particolare sarà la sesta che iniziò nel 1228 e che venne guidata da un grande imperatore Federico II. Perché viene ricordata? Perché non si combatté. Federico II aveva come idea quella di riconquistare Gerusalemme attraverso delle trattative diplomatiche e il versamento di forti somme di denaro. Il progetto però non andò a buon fine. La più discussa invece fu senza dubbio la quarta. Come mai? Ma prenditi un attimo di tempo. Ferma anche il video in questo punto e osserva attentamente questa cartina. C'è qualcosa che non va. Nel 1201 i crociati si raccolgono a Venezia perché fatta esperienza nelle crociate precedenti invece di andare a Gerusalemme a piedi avevano deciso di partire con le navi e Venezia era una delle città marinare all'epoca più importanti e più potenti e sicuramente anche una tra le più comode. Ma un viaggio così lungo da Venezia fino a Gerusalemme costava parecchio denaro e i crociati non avevano tutto il denaro necessario. Quindi fecero un patto con il doge di Venezia, cioè il governatore di Venezia. Avrebbero partecipato anche i mercati veneziani alla crociata, anzi l'avrebbero addirittura diretta loro e poi successivamente si sarebbero spartiti il bottino, in questo modo i veneziani avrebbero recuperato, anzi avrebbero anche abbondantemente superato la cifra dovuta dai crociati. Una volta partiti però non si dirigeranno direttamente a Gerusalemme come tutti si sarebbero aspettati, ma fecero rotta verso Costantinopoli. Come mai? Alessio IV era il figlio del sovrano di Costantinopoli, sovrano che era stato cacciato e anche Alessio IV era stato spodestato. Aveva chiesto aiuto allora ai crociati e a Venezia, se lo avessero aiutato a recuperare il trono lui li avrebbe ricompensati con delle grandi ricchezze. Ecco perché i crociati si dirigono verso Costantinopoli e non verso Gerusalemme. Infatti Costantinopoli viene assediata, viene mandato via all'usurpatore del trono e Alessio IV riesce a impossessarsi del trono. Ma c'è un piccolo problema. Alessio IV non aveva tutte quelle ricchezze che aveva promesso perché le casse dello Stato erano praticamente vuote. Non solo, ma dopo qualche mese di regno venne ucciso e al suo posto salì Alessio V. I crociati allora assedieranno nuovamente la città e nel 1204 la conquistarono, razziando, rubando, compiendo ogni sorta di violenza e alla fine facendo un bottino ricchissimo che venne portato a Venezia. Tra le innumerevoli ricchezze del bottino ci saranno anche i famosi quattro cavalli che campeggiavano sulla Basilica di San Marco. L'avvenimento fece un grande scalpore in tutta Europa perché insomma i crociati avevano assediato e razziato una città cristiana. Non era la prima volta, a dire il vero, che i veneziani facevano un'impresa del genere, ma insomma Costantinopoli era pur sempre Costantinopoli. Tutto però fu presto dimenticato e anzi Venezia, grazie a questa conquista, si prese anche tutti i porti del Mediterraneo che erano stati i porti bizantini. Quindi per ricapitolare, queste sono le crociate più importanti, cominciano nel 1096, a dire il vero l'anno prima, se vogliamo contare anche la famosa crociata dei poveri, e termineranno nel 1270. Di tutte queste crociate solo la prima, quella di Goffredo di Buglione, riuscì a conquistare Gerusalemme, le altre invece assolutamente no.